Oggi vi farò vedere perché conviene imparare a utilizzare il flash. Andremo a vedere un paio di esempi e vi farò vedere la differenza tra il flash incorporato nelle nostre fotocamere e un flash esterno, speedlight o flash cobra, lo possiamo chiamare in mille modi diversi. Andremo a vedere come si comportano, quali sono le differenze principali, perché ci conviene imparare a utilizzare questo dispositivo e che cosa può dare in più alle nostre fotografie. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo appunto di fotografia da diversi anni, utilizzo tutti i metodi di illuminazione possibile e immaginabile nelle mie fotografie a seconda del caso che mi trovo davanti. Può succedere che la luce naturale sia la cosa migliore, può succedere che sia la più comoda e quindi molto spesso sono io il primo a dire vabbè dai me la gioco con la luce che c'è e tanti saluti, ma può anche succedere che non ci sia scelta, che si debba per forza utilizzare un flash per illuminare la scena perché altrimenti la scena è troppo buia e se io vado a bilanciare gli altri parametri quello che succede è che spesso e volentieri la scena viene mossa perché devo aumentare i tempi di posa e questo non va bene. Ecco che sono costretto a utilizzare il flash. Ma utilizzare il flash non è solamente far fronte a una necessità di illuminazione, infatti se è vero che io posso utilizzare il flash per dare un lampo di schiarita alla mia scena, e vi lascio un video linkato da qualche parte di cui ho già parlato, io spesso utilizzo il flash anche per bilanciare il colore, quindi non è solo una questione di c'è poca luce allora illumino, può anche essere una questione di le luci in ambiente hanno una dominante cromatica, questa dominante a me non piace, la voglio eliminare, do un lampo di schiarità, elimino la dominante cromatica e ho le foto pulite, può anche essere semplicemente questo. Nel video di oggi vedremo semplicemente la differenza tra il flash montato sulla camera e un flash esterno. Continuate a farmi sapere nei commenti se questo tipo di argomento vi interessa perché ho riscontrato un certo interesse da parte vostra e sono quindi molto curioso di sapere se vi sta piacendo il prosieguo di questo argomento e se volete vedere altri episodi. Vi ricordo a questo proposito di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto così non andate a perdervi le serie sul flash che voi stessi mi state richiedendo. Molto bene ma per il video di oggi come spesso capita abbiamo una bellissima modella che ci aiuta qui come potete vedere siamo in compagnia di Daenerys Targaryen nata dalla tempesta madre dei draghi spezzatrice di catene andiamo a incominciare che è meglio. Dunque quello che andremo a fare all'inizio è molto molto semplice io sto utilizzando una 7d prima versione con il mio bellissimo 100 mm macro è l'unica ottica con cui Daenerys ha accettato di farsi fotografare da me dovete avere pazienza. Dunque che cosa facciamo? Andiamo innanzitutto a fare uno scatto di prova senza nessun flash quindi con le luci che ci sono nella stanza. Tenete conto che qui c'è una luce da studio quindi bella è puntata su di me ma è pensata per fare video con determinati parametri. Noi andremo a scattare la nostra fotografia a Daenerys con degli altri parametri che sono ve lo dico subito stiamo scattando a iso 100 un centesimo di secondo f5.6 f5.6 perché la vogliamo un pochino a fuoco quindi abbiamo dovuto chiudere un pochino il diaframma un centesimo di secondo perché è il minimo per lavorare con un'ottica come questa se no mi viene mossa quindi devo lavorare con dei tempi almeno di un centesimo di secondo iso 100 perché mi serve per fare la dimostrazione di quello che stiamo andando a fare con il flash io potrei alzare gli iso potrei scattare a iso 800 ma invece sto lavorando a iso 100 è una cosa che molti vogliono fare quando si utilizza il flash andiamo a vedere che cosa succede se io scatto con questi parametri questa è la fotografia che viene fuori come potete vedere siamo in carenza di luce io non posso scattare in questo modo perché la foto viene tutta nera non va bene è evidente che non è quello che vogliamo anche se c'è luce presente in sala perché c'è questa che voi state vedendo che illumina me e illumina anche lei lei lo sa e lì ve lo può confermare però il punto qual è che per scattare con i parametri che ho impostato questa luce non è sufficiente allora che cosa possiamo fare ovviamente possiamo lavorare su tutti quanti i parametri e in particolare vi faccio vedere che cosa succede se io vado ad aumentare i tempi di posa adesso vado a fare la stessa identica fotografia ma sto scattando a un quarto di secondo e vi faccio vedere che cosa succede allora quando io scatto a un quarto di secondo a mano libera è possibile che la foto venga a fuoco ma è anche possibile che la foto venga mossa questo semplicemente perché la posa è molto lunga ora io sto seduto su una sedia ho puntato i gomiti sui braccioli della sedia e ho fatto la foto in questa posizione stando sulla sedia d'ufficio stando su una sedia d'ufficio io qualche volta riesco a farla a fuoco anche scattando a un quarto di secondo ma qualche volta invece non ci riesco voi immaginatevi che cosa succede se io provo a scattare le fotografie a un quarto di secondo ma senza la sedia stando in piedi e per di più a soggetti che si muovono come possono essere delle persone vi garantisco che vengono tutte mosse quindi noi non possiamo scattare in questo modo ci serve più luce se no non ce la facciamo a portare a casa la foto e sì certo potevo aprire un pochino il diaframma e potevo alzare un pochino gli iso ma avrei avuto una profondità di campo troppo sottile e non è quello che voglio e avrei avuto più rumore nell'immagine potrebbe non essere quello che voglio quindi che cosa ho fatto sono andato a premere questo bottone e ho liberato il mio piccolo flash incorporato sulla macchina questo flash mi permette di rischiarare la scena e adesso andremo a vedere in che modo come potete vedere questo è un flash che illumina il mio soggetto e può anche essere gradevole perché soprattutto se stiamo fotografando una ragazza va a togliere tutte le ombre sul viso e quindi se noi riusciamo a fare questa fotografia isolando il soggetto dallo sfondo stando lontani dallo sfondo può dare un effetto che ci sta perché stiamo comunque rischiarando il volto della persona frontalmente quindi è possibile che ci esponiamo al rischio di avere gli occhi rossi è possibile che abbiamo l'ombra della persona subito dietro sul muro che non è mai una cosa gradevolissima però quantomeno con i miei parametri corretti quindi parametri dichiarati all'inizio riesco a fare la foto il flash va automaticamente a compensare la mancanza di luce quindi emette un lampo della potenza giusta questo flash lavora anche se io sono in manuale questo flash lavora in automatico compensa l'esposizione va a darmi l'illuminazione corretta per la scena che ho di fronte sempre che ne sia in grado perché ha una potenza un po ridotta chiaramente quindi non può illuminare qualsiasi scena può darmi un aiutino se ho impostato dei parametri in manuale che sono estremi tipo f16 un centottantesimo iso 100 è possibile che questo flash non ce la faccia inoltre ha una gittata limitata senso che essendo piccolo se il mio soggetto è a un metro due metri va bene se il mio soggetto è a nove metri questo non ci arriva e questo può essere un grosso problema andiamo ora a vedere che cosa succede se ci serviamo di un flash un pochettino più potente e completo come questo ora giusto perché lo sappiate perché molti di voi poi mi chiedono come si decide la potenza del flash ragazzi io vi dirò che lo uso così spesso che io per questa scena o con i parametri che ho in macchina ho impostato un ottavo di potenza buona la prima ho scattato ed era buona la prima perché lo sapevo già perché ho scattato così tante volte che io so esattamente come devo impostarlo e se vario un parametro sulla macchina so che devo semplicemente variare l'altro parametro sul flash e so sempre come deve essere può capitare che io sbagli di poco ma tendenzialmente la becco sempre al primo massimo secondo colpo quindi è questione di abitudine sarebbe meglio farlo con l'esposimetro certo l'esposimetro ci direbbe esattamente qual è la quantità di luce che dobbiamo utilizzare per avere la scena bilanciata ma spesso e volentieri noi non vogliamo avere la scena perfettamente bilanciata partiamo da una scena bilanciata per raggiungere il risultato che vogliamo quindi l'esposimetro può servire all'inizio ma guardate lo scatto di prova secondo me e non solo secondo me lo dice anche car taylor quindi proprio non l'ultimo degli scemi per quanto riguarda la fotografia di studio con i flash è meglio basarsi sul risultato finale piuttosto che basarsi sulla lettura di un esposimetro l'esposimetro ci dice solo che la luce è a zero che l'esposizione è a zero ma noi potremmo non volerla zero potremmo voler sovraesporre sottoesporre quindi l'esposimetro ci aiuta a stare a zero ma poi dobbiamo anche essere creativi come potete vedere già confrontando questi due scatti un minimo di differenza si vede secondo me non ci sono dubbi che la luce prodotta dal flash a cobra sia migliore questo per una serie di motivi primo motivo sono le dimensioni dell'emettitore l'emettitore incapsulato sulla nostra fotocamera è grande così l'emettitore su un flash a cobra è grande sei volte tanto quindi più grossa è la sorgente più morbida sarà la luce inoltre il flash a cobra è sfasato rispetto all'obiettivo noi abbiamo l'obiettivo che sta qui e il flash a cobra è sopra mentre nel caso del flash sulla macchina noi abbiamo l'obiettivo qui il flash è appena sopra quindi questo ci mette a rischio occhi rossi e abbiamo l'ombra direttamente dietro che non è mai troppo piacevole il flash a cobra è posizionato più in alto quindi l'ombra tende a scendere il che la rende più gradevole meno invasiva inoltre come già detto il flash a cobra può essere impostato io l'ho impostato giusto al primo colpo ma io potevo impostarlo troppo forte in maniera che illuminasse tantissimo sovraesponesse il mio soggetto questo si fa magari se voglio togliere difetti della pelle o cose del genere oppure potevo sottoesporre se volevo dargli una luce più drammatica o se volevo lasciare parte dell'illuminazione che c'era già nella stanza una grossa differenza di cui dobbiamo tenere conto è data anche dall'orientamento ovvero io posso scattare in questo modo e così più o meno sto ripristinando la condizione di prima io ho il mio obiettivo e ho la mia luce che scattano in linea in questo modo avrò comunque una grossa sbiancata sul mio soggetto avrò comunque l'ombra che ricade dietro però in maniera migliore rispetto a prima ma io posso anche fare un'altra cosa io posso orientare il mio flash in modo che la luce spari sul soffitto questo avrà due effetti il primo è che non avrò più l'ombra dietro così invasiva il secondo è che la luce sarà più diffusa non avrò una sbiancata sul mio soggetto ma avrò una scena illuminata in maniera più equa ovviamente questo anche delle conseguenze perché se io punto il mio flash direttamente sul soggetto avrà piena potenza se io punto il mio flash sul soffitto dobbiamo capire che la potenza sarà praticamente dimezzata perché la distanza che la luce dovrà fare non sarà più un metro da qui al mio soggetto ma sarà un metro da qui al soffitto magari anche di più due tre metri da qui al soffitto e poi due tre metri dal soffitto al mio soggetto quindi dovremo aumentare la potenza e ora siccome so che siete curiosi come bertucce facciamo un piccolo esperimento per quanto riguarda il colore abbiamo parlato prima di dominanti cromatiche del fatto che noi potremmo volerle eliminare col flash oppure potremmo non volerle eliminare col flash dunque per dimostrare ciò abbiamo messo due luci colorate vicino alla nostra daenerys che si sente ancora più piccola perché le luci sono più alte di lei dunque cosa facciamo adesso cominciamo a fare uno scatto così come siamo flash spenti e questa è la fotografia con le sole luci ambientali come potete vedere abbiamo delle luci ambientali che danno un mood un'atmosfera alla nostra scena noi ora utilizzando un flash possiamo decidere di distruggere completamente questa atmosfera e di andare a togliere questo colore e questo lo possiamo fare sia con il piccolo flash incorporato sulla macchina io vado a scattare con gli stessi parametri abilitando il flash sulla macchina la macchina automaticamente va a esporre la scena e mi bypassa tutte le luci colorate che abbiamo messo perché va semplicemente a leggere il fatto che manca luce va a riempire questo buio con un lampo di schiarita che ha l'effetto di togliere anche tutto il colore ora ben inteso che noi possiamo fare esattamente la stessa cosa anche con il flash sulla macchina possiamo farlo in due modi però come detto possiamo puntare il flash contro daenerys oppure possiamo puntarlo sul soffitto ovviamente se lo puntiamo contro daenerys avremo grosso modo la stessa cosa distruggeremo tutto il colore tutto il mood della nostra scena ma lo faremo comunque con un'emissione migliore più distante dal nostro obiettivo quindi comunque è meglio anche se grosso modo si somigliano possiamo farlo anche puntando il flash sul soffitto e qui viene la cosa interessante perché a differenza del flash sulla macchina con questo noi possiamo decidere la potenza e cambiando la potenza diminuendo la potenza del flash noi possiamo decidere di illuminare sì il nostro soggetto ma di lasciare parte delle luci ambientali poi questo possiamo andare a farlo anche modificando gli altri parametri perché dipende dalla scena io in questo caso non me la sento di allungare i tempi di posa perché io sto fotografando daenerys che di solito sta ferma ma se io stessi fotografando qualcun altro vi faccio un esempio su tutti se io stessi fotografando aria stark invece di daenerys lei si muove molto di più e quindi verrebbe mossa quindi non voglio allungare i tempi di posa me la gioco solo sulla potenza del flash giocandomela sulla potenza del flash io posso aumentarla o ridurla se io la tengo alta come ho fatto finora tolgo il colore ho una schiarita che mi uniforma tutti i colori e ho la mia scena pulita se invece io sono a un concerto a un evento dove ci sono delle luci colorate e voglio preservare parte di quell'atmosfera abbasso la potenza del flash in maniera tale da avere un lampo che mi schiarisce la scena quel tanto che basta ma che mi lascia la percezione delle luci ambientali questa è una cosa molto bella che noi possiamo fare col flash perché come avete visto il flash ci permette di lavorare su un binario separato rispetto alle luci ambiente le luci ambiente sono quelle e rimangono quelle ma con la potenza del flash regolando la potenza del flash noi possiamo decidere di blendare insieme l'emissione del nostro flash e le luci già presenti in scena già solo questo capite che ci dà un potere creativo gigante perché noi possiamo decidere se avere una scena sbiancata dal flash quindi senza il colore della scena e questo molte volte può servire vi faccio un paio di esempi faccio delle foto in uno studio dentistico questo studio dentistico ha delle luci al neon che sono oscene ragazzi sono bruttissime siete stati dal dentista no lo sapete che non c'è una bella luce lì dentro è una luce che serve a loro per lavorare ma fotograficamente è orrenda ha un colore molto brutto e sono anche un po bui questi studi dentistici perché hanno le luci che si concentrano dove devono guardare loro il resto della stanza magari non è ben illuminata con un lampo di flash io ottengo il duplice risultato di andare a rischiarare la scena e di andare a togliere quella dominante cromatica orrenda di quelle luci neone così vado a equilibrare il tutto questa è una cosa che può succedere oppure viceversa io sono a un evento o a un concerto dove ci sono degli allestimenti con delle luci colorate magari quelle luci colorate io voglio che si vedano se io tutte le foto con le luci bianche con la flashata davanti non è il massimo della vita magari avevano messo delle luci con dei colori particolari magari c'erano delle scene con le luci rosse da sotto che dovevano simulare il fuoco io vado a sbiancare tutto con il flash è un peccato abbasso la potenza del flash in maniera tale da illuminare sì il mio soggetto ma non così tanto da cancellare completamente le luci rosse che venivano da sotto col flash sono in grado di fare questa cosa ben inteso questa cosa la potrei fare anche con delle luci fisse però vaglielo a dire a chi ho organizzato il concerto l'evento quello che è che tu devi portarti dietro una luce fissa grossa così da portarti sempre dietro con il cavo teso in mezzo al palco vaglielo a spiegare con il flash è molto più comodo e riusciamo a fare questo e molto altro in maniera più comoda più agevole consumando di meno essendo più efficienti e portandoci dietro il minimo indispensabile che in fin dei conti è una strategia assolutamente premiante amici a questo punto io vi chiedo fatemi sapere nuovamente in un commento se vi interessa continuare proseguire nella scoperta dell'utilizzo del flash il video di oggi di nuovo non è stato particolarmente complesso e particolarmente ricco di informazioni perché sto cercando di prenderla molto piano nel senso che nel video precedente che avevo fatto era un tutorial proprio sul setup cioè il flash si attacca così il flash si accende cosa era molto semplice molto basico però ha avuto un buon riscontro per questo motivo faccio questo secondo video che di nuovo è molto basico ma serve a farvi capire le potenzialità di questo strumento fatemi sapere se la cosa vi interessa perché nei prossimi video per come ho ideato la cosa andremo a lavorare effettivamente sui parametri io vi ho fatto vedere più o meno che cosa si può fare nei prossimi capitoli se mi dite che la cosa continua a interessarvi vi farò vedere come si usa sul campo come si imposta come si prendono le decisioni nel momento in cui decidiamo che il flash è il modo giusto di procedere a questo proposito vi invito come sempre a iscrivervi al canale perché se questi argomenti vi sono interessati se vi andate a iscrivere non vi perdete la continuazione vi ricordo anche che io spesso rispondo alle vostre domande con degli shorts verticali per cui andando a iscrivervi adesso poi non ve li perdete signori è stato come sempre un piacere passare un po del nostro tempo con voi io e denerys targaryen regina dei draghi nata dalla tempesta vi diamo appuntamento al prossimo video